Salve a tutti, ben ritrovati, mi avete riconosciuto? Sono i possente Momoti e vi voglio raccontare un evento storico. Ieri sono andato a cinema e ho visto Mazinga Z infiniti, veramente impressionante. Mai vista una cosa del genere? Fatto molto bene, era da una vita che non vedevo Mazinga Z, mi è piaciuto molto. Oggi vi voglio raccontare cosa ho fatto il giorno di Halloween. Sono andato in giro a ammazzare un sacco di zombie, proprio come voi. Però questa volta ho combattuto con un cinghiale. Le zanne erano giganti, roba da amati, roba da non credere, roba dall'altro mondo. Io ho Momoti che combatto con un cinghiale. Mai vista una cosa del genere, impressionante della mia stessa vita. Comunque, cosa avete fatto? Il giorno di tutti i morti e tutti i santi? Siete usciti con i vostri genitori? Vi siete divertiti? Avete fatto docetto scherzetto? Bravi zammettini miei, mi piacete così. La vostra vivacità mi piace sempre di più, ragazzi. Ogni giorno che passa state maturando prima del tempo. Complimenti. Vi devo fare le mie grandi congratulazioni. Bene, 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 bene. La filosofia di oggi è la tenacinità di Momoti. Niente e nessuno potrà vedere il mio vero volto. Fì quando avrò questa maschera addosso, Io sono un anonimo per molti che mi seguono su YouTube. Ma mi raccomando, ragazzi e bambini, ci stiamo avvicinando a Santo Natale, la mia festa preferita. Che bello! Non vedo l'ora di scartare tutti i regali che Babbo Natale porterà. E voi ragazzi, siete con me? Il giorno della vigilia di Natale io non ci sarò. Ma ci rivedremo con il nuovo anno. Adesso vi devo lasciare. Devo fare una cosa. Ci vediamo a breve, ragazzi. E mi raccomando, fate buoni. Il Natale ormai si sta avvicinando sempre di più. Allora, guardatevi sempre dietro le spalle. Perché non si sa mai se ci sarò io. Così, per scaramanzia. Allora, cari zombitini miei, Buon divertimento e buona paura. E buon promotorio della paura, zombitini miei. Mammo ti è tornato. Più spietato che mai. Ciao ragazzi. Eh, se fossi in voi stanotte, prima di andare a dormire, prima di mettermi i pigiama, guarderei sotto il letto. Non si sa mai se mi potete trovare. Ma io guarderei lo stesso. Ci vediamo dopo, zombitini miei. Ciao. Un grande saltone da zio Momoti. Ciao ciao. È strano che nessuno abbia fatto un film di me. Io che esisto. Io che sono il terrore della paura. Nessuno mi fa un film. Peggio per voi. Vi perseguiterò. Ciao. Ciao.